Salve a tutti e ben ritrovati qua a Diarte, siamo in compagnia per il secondo giorno di Alessandra D'Amato, una pietrice imorese che ieri ci ha avvolto con la sua spiritualità, la sua emozione, molto di sé e quindi da questo partiamo per continuare il discorso, partendo ovviamente da una mostra che lei in qualche maniera sta perpetuando da mesi, da un anno e mezzo, da un anno e mezzo che si chiama Le Lady Lei, che insomma già il titolo la dice lunga, moltissimo, anche perché abbiamo detto ieri che c'è molto di te in queste tue donne, quindi Le Lady Lei sono un po' che cosa? Guarda, Le Lady Lei, Paola, sono tutte sfaccettature di una femminilità, sicuramente una femminilità complessa che viene espressa appunto attraverso le mie lei e quindi questi visi talvolta proprio anche fuori dal tempo, però con un'espressione, una femminilità sempre ben molto netta, se infatti per esempio rispetto al pensiero che avevamo ieri come quadro di riferimento, oggi abbiamo una donna, una lei totalmente diversa, che è probabilmente la lei che più mi rappresenta a livello profondo e molto molto intimo ed è l'equilibrista, l'equilibrista che è il quadro per eccellenza che io amo di più forse tra quelli che io ho fatto, lei è così in equilibrio sulle sue emozioni per cercare una strada che possa aiutarla a superarsi anche nel dolore profondo che si libera quando tu cerchi di buttare fuori questa emozione forte, ecco l'equilibrista è questo, l'equilibrista va oltre con i suoi occhi, guarda e passa e però è una donna che ama moltissimo, sicuramente tantissimo e che sta soffrendo tantissimo ma in un modo anche molto molto dolce, cioè quasi come se questa sofferenza interiore che la fa stare appena appena in equilibrio l'aiuta a vivere meglio, è una contraddizione può sembrare, no? Perché tramite il dolore poi si può arrivare anche alla gioia, questo è l'equilibrista, è un quadro che mi dà ancora oggi brividi, è un quadro che fa parte di una collezione privata che la persona tra l'altro che ha acquistato questo quadro, mi piace dirlo, l'Analisa, quando è venuta a una mia mostra mi emoziona ancora oggi parlarne, non mi conosceva, è arrivata Paola, l'ha visto, io ho i brividi, le sono venuti i brividi e si è messa a piangere e ha detto assolutamente mio, io ancora oggi credimi Paola non so perché l'ho venduto perché è il quadro mio più intimo, però ce l'ha lei a casa sua, quando voglio me lo presta, posso andarla a vedere, quindi questo per me è solo lei che mi fa questo effetto qui, questa equilibrista, per cui questo va bene così e poi tra l'altro poi sono diventata amica dell'Analisa di questa ragazza che ha comprato l'equilibrista e abbiamo così scoperto che negli ultimi anni e forse da quando siamo nate forse abbiamo delle storie di vita molto simili, ma storie non superficiali, profondissime, veramente che ci accomunano, infatti siamo diventate grandi amiche, quindi l'equilibrista diciamo che è andata a finire in ottime mani, io sono felice. E questa è una riprova del filo rosso di cui parlavamo ieri, quindi in qualche maniera l'arte che diventa contatto con persone, l'arte in qualche maniera dà molto la possibilità di recuperare e di rivivere, metabolizzare dei rapporti che razionalmente non riusciamo a comprendere, quindi dà delle risposte molto forti, io ne sono convinta, quindi sicuramente c'è un suo perché anche a questo incontro tra la tua equilibrista e questa donna. Io credo di sì, che non è una cosa casuale, nel senso che avendo ritrovato in lei un'esperienza di vita molto simile, ma anche molto particolare, affine alla mia, beh Paola vedi tu. Io direi che io la vedo molto come la vedi tu. Questo per riprendere anche il discorso che facevamo ieri, che in realtà le mie lei nascono da un'emozione, cioè loro sono un involucro di un'emozione, un modo di trasmettere queste emozioni a qualcun altro. A volte mi si chiede ma le persone che passano, cattano, sentono questo che tu vuoi trasmettere? A volte sì, a volte no, in questo caso assolutamente sì. In altri devo dire che persone, donne o uomini, non percepiscono esattamente l'emozione che c'è in quel ritratto, e casomai ne percepiscono un'altra, perché la cosa che io ho notato appunto andando in giro, portando in giro le mie lei, è che ognuna di loro ha una specificità. Allora, sai, chi riesce a coglierla in base a quello che ho voluto trasmettere, è sicuramente in un qualche modo affine, certo. Chi invece coglie qualche altra cosa, va bene lo stesso, ha una sua esperienza. La cosa che mi fa piacere è che sia riuscito comunque a cogliere un'emozione. Io amo emozionare. La vita è emozione, il colore è emozione, le mie lei voglio che continuino a emozionare nel bene, ma è anche nel male, accetto anche assolutamente, anzi, desidero che mi venga fatta anche la critica negativa, hai capito, che per quanto a volte ti possano così dispiacere, però è assolutamente evolutiva. Assolutamente. Perché le chiami le mie lei e non le mie donne, per esempio? Ma sì, è vero, le mie lei. Questa è una domanda bella, Paola, che io non mi sono mai fatta, e quindi cercherò di darle la risposta qui con te. Perché sai, c'è molta differenza che quando si parla di amore, di una coppia, di fidanzati, dire il mio uomo o il mio lui, è come un po', il mio lui è un po' la mia persona, è molto diverso da dire una persona con cui sto insieme, la mia persona è la mia persona. Brava, mi vengono i brividi a me adesso, Paola, nel senso che hai risposto tu a una domanda che per me forse era anche difficile da inquadrare, come credo sia proprio questo. Cioè le lei sono talmente intime, intime a me, che non sono delle donne. La donna è un qualcuno di esterno, la lei è un trasferimento di personalità in un volto. Sì, brava Paola, è questo. Bene, sono con te. Figurati, ci mancherebbe. Ascoltale, ma in quale momento, questo quadro così caro al tuo vissuto, a te stessa, a quello che in qualche maniera ti è rappresentato in quel momento, ecco, qual è questo momento? Il momento è stato un momento di due anni fa, in estate, un momento dove io stavo lottando proprio dentro me stessa per superare, ti dicevo, le cose a volte evolvono partendo da un forte dolore, stavo proprio cercando di elaborare un fortissimo dolore che è passato attraverso la mancanza di persone a me molto care. E ho cercato e lottato di superare, cioè ho cercato e lottato per superarlo, ma senza chiudermi, senza intristirmi, senza, come dire, arrabbiarmi, no? Ho cercato proprio di essere il più morbida possibile. Però questo, chiaramente con una forte emozione che in quel momento aveva la connotazione di dolorosa, anche perché quando cambi, diciamo, in certe situazioni della vita, sicuramente devi trovare un nuovo equilibrio, sia che sia dovuto a un amore molto forte che tu provi dentro e non sai più gestire. Persone, cose, situazioni, emozioni che hai perduto, no? Perché la vita è questa e va bene così, cioè li accettiamo, ci mancherebbe, che però quasi ti scaraventano in un'altra vita che probabilmente devi imparare a conoscere. E quindi sei in equilibrio tra quello che era il vecchio e quello che sta facciandosi essere il nuovo, che ti appartiene molto di più. Ho ritrovato dopo anni la pittura, il colore, cose che io ho preso da bambina, ma sai, non è facile anche questa proprio, vedi, faccio fatica a parlarne per quanto è grande questa emozione. Ecco, l'equilibrista è questo, cioè essere su un filo per trovare un nuovo equilibrio, che poi si trova, si perde, si trova e si perde, ma tra due mondi, cioè un mondo di io prima e un mondo di io dopo a determinate situazioni della mia vita, di forte amore, chiaramente. Quindi questo è due anni fa, in estate, viene fuori lei, in ore e ore, cioè io l'ho amata mentre la facevo, alla follia, è capito, l'amo ancora oggi, la follia, la mia equilibrista. Il narcisista ami te stessa, ma chi non si ama, cioè io spero proprio di sì. È doveroso amarsi, è doveroso. Che ognuno deve amare almeno certi aspetti, e anche nel, ripeto, il dolore, la sofferenza va amata, rispettata, e bisogna, credo io, uso la frase non detta da me, ma la riporto con piacere, beh, esiste sempre un punto su cui fare leva per trasformare il dolore in qualcosa d'altro. Assolutamente. Questa è l'equilibrista. Perché allo sguardo basso? Allo sguardo basso è traverso, ma se fai caso un po' tutte, cioè è difficile che siano dirette, non lo so, quasi come dire tu non mi vedi ma io vedo tutto, tu non te ne accorgi, ma io sto cogliendo anche il minimo particolare. Quindi sono loro che ti guardano. E non credo siano loro, cioè comunque sia loro guardano un qualcosa che non sono neanch'io, cioè che è la vita stessa. Mamma mia. Perché se l'hai fatta durante l'estate, in realtà ha questo mood, sì, esatto, più autunnale, più, come fase di passaggio, l'estate è un momento di... Ma sai, la stagione, le emozioni non hanno stagione, lei la vedevo come una donna di altri tempi, con questo cappello comunque di vuole in testa, e questa diciamo cappa che le lascia intravedere il seno. Se tu fai caso, molte delle mie donne hanno in evidenza il seno, è la maternità, probabilmente è proprio la femminilità, no? Nell'associazione è proprio più intima, più profonda, più femminile. E quindi sì, il fatto mi piaceva che le avesse questa morbidezza, che lasciasse vedere e non vedere. E quindi è, diciamo, un piccolo anche spediente pittorico, quello di vestirla in questo modo, se vogliamo, anche fin troppo originale. Anche questo rosso dei capelli, molte mie donne hanno i capelli rossi, non so dirti perché. Perché? Ecco, è un'altra domanda che ti avrei fatta. Le donne ha i capelli rossi, anche bionde, Paola le amo, anche more, però non perché amo le donne, cioè io sono sposata, un figlio, eccetera, però trovo che i capelli rossi siano veramente belli. E sai una cosa buffa, carina? Ci credi che la ragazza che ha comprato questo quadro ha i capelli rossi? Ha i capelli rossi, pazzesco. Forse perché sono rare. Ma sì, io le conosco varie, però forse per quello che io le attiro, perché non ti so dire. Però anche a me capita di guardarle. Una donna con i capelli rossi immagino delle lentigini, degli occhi verdi, immagino anche, non so, ha tutta una simbologia il rosso molto particolare. Quindi le persone sensibili sono molto attratte dal rosso. È il mio colore preferito, credo. Davvero, Paola? In tutte le sue specie di attore. La prossima donna comunque la farò bionda. Fantastica, allora sarò la prima a vederla, assolutamente. Perché sono senza le orecchie? Questa è una cosa che colpisce immediatamente. Certo. Guarda, sono senza orecchie probabilmente perché è un rapporto tra me e le mie lei e loro, talmente intimo, che forse, perdonami, tutto il resto che c'è intorno non viene ascoltato. Cioè è una pittura che non ascolta, è una pittura che esprime e non ha bisogno di orecchie, non sente, però ho sempre questi grandi occhi, probabilmente anche perché è uno dei miei sensi, probabilmente come persona più sviluppata è proprio la vista e non l'udito. Probabilmente io amo molto il silenzio, io adoro il silenzio, io amo stare nel silenzio, stare nei boschi, sentire proprio il rumore della natura, la voce della natura, il silenzio, amo ascoltare il silenzio. Quindi credo sia proprio per questo che non faccio le orecchie, non le ritengo necessarie. Ho anche delle bellissime relazioni con le persone, attenzione. No, per carità, assolutamente. Però preferisco guardare piuttosto che sentire, perché sai cosa Paola, talvolta direi forse quasi sempre, le parole possono ingannare, gli occhi no. No, è verissimo. Anche perché le persone che parlano troppo delle proprie emozioni, in realtà stanno disperatamente cercando di non trattenerle all'interno. Perché il desiderio di metabolizzare con la propria intimità un'emozione, secondo me, è una grande conquista e non tutti ne sono capaci. Perché le emozioni spaventano. Assolutamente. E quindi uno cerca disperatamente di farle sentire agli altri. Per questo il tuo privare le tue lei delle orecchie ha sicuramente un senso di grande forza intima. Perdonami la mia spicciola psicologia. Ma io sono felice di questo, perché insomma parliamo di qualcosa che va interpretato nel giusto modo. Perché io inizialmente ho fatto anche delle orecchie, ma le trovavo così in più, in questi visi. Cioè io amavo i visi delle mie lei pulitissimi. Non volevo delle protuberanze. No, e quindi mi trovavo sempre a cancellarle queste orecchie. Alla fine non trovo. Però non hanno dei visi tondi. Ecco, non è il primo impatto, non è quello di vedere una bambola. O perlomeno sono molto stilizzate. Quindi in che senso delle protuberanze? Come intendi tu la protuberanza? L'orecchio? È una cosa che viene fuori? Sì, no, semplicemente in questo senso qui. Cioè l'orecchio per me esteticamente andava a rovinare questa, concedimelo tra virgolette, perfezione del viso. Cioè hai ragione, un ovale perfetto. L'orecchio distoglieva, hai capito, da questa linea perfetta del viso un po' che hanno, come posso dire, quasi tutte hanno in effetti la stessa forma, ma l'orecchio non c'entra. L'orecchio in più. L'orecchio in più. E questo è una cosa che dovrebbe far capire molte cose a molte donne che invece stanno sempre lì. È molto femminile. È molto femminile. Forse ecco... Questa pretesa femminile, ma non femminile perché la donna ha un mondo dentro, quindi però lo accomuno moltissimo proprio a quella caratteristica tipica... Del parlare delle donne. Esatto, che pretendono l'ascolto, quindi l'orecchio teso, magari anche dal punto di vista del compagno, del maschio, che invece è da tutt'altro pianeta. Quindi secondo me è un consiglio molto molto importante. Ah, tu l'hai già presa come consiglia. Fantastico. Perché no, perché l'arte dà sempre un messaggio. Sì, il messaggio fondamentalmente è quello, cioè di come sono fatta io, attenzione, non è detto che io sia fatta bene, giusta. Però questo rappresenta, l'equilibrista in questo momento rappresenta il tuo desiderio di metabolizzare un dolore nella tua maniera. Io credo che questo sia doveroso per tutti. Assolutamente, Paola, grazie. Perché in certi momenti della propria vita, quando si attraversano delle difficoltà, sia forse la falsa pretesa che tutti debbano in qualche maniera venire in soccorso. Invece il primo soccorso dobbiamo trovare noi stessi. Assolutamente, non esiste soccorso possibile e infatti la pittura in questo senso mi ha proprio aiutato tantissimo e inizialmente mi ha aiutato, adesso fa parte di me. Adesso io non posso vivere senza la pittura, senza il colore, senza le mie lei. E quindi l'equilibrista mi ha aiutato a superare proprio questo momento, diciamo, particolarmente difficile della mia vita. Alessandra, grazie. Grazie a te, Paola. Grazie veramente. Noi ci vediamo domani, ovviamente con Alessandra D'Amato, per continuare questo percorso insieme a lei. Un bacio da Paola e buona sera. Grazie.